Noi siamo composti in larga misura d'acqua. Allora, è vero? È verissimo. L'acqua rappresenta circa il 60% del contenuto corporeo nel maschio e il 50% nelle femmine. Quindi il nostro corpo è veramente intriso d'acqua. Poi noi consideriamo il nostro corpo a compartimenti contenuti da uno scheletro impermeabile perché l'acute è impermeabile all'acqua. Il sudore deriva dalle viandole sudoripare ma non passa attraverso l'acute. L'acute è un contenitore impermeabile all'acqua che ci consente di avere una gestione dell'acqua del corpo precisa e di poter distinguere il corpo in vari comparti. C'è un compartimento intracellulare, cioè l'acqua contenuta all'interno delle cellule, e un compartimento extracellulare, cioè l'acqua fuori dal contenuto delle cellule. E poi nel compartimento extracellulare distinguiamo anche il compartimento intravascolare che è l'acqua del sangue, l'acqua circolante. Faccia conto che circa il 60% del contenuto di acqua è racchiuso all'interno delle cellule, per cui in una persona di 70 kg è circa 40 litri. L'acqua totale e il compartimento intracellulare è di circa 24 litri di acqua all'interno delle nostre cellule. Mentre l'acqua al di fuori delle cellule equivale a circa 15-16 litri e circa 3 litri è l'acqua contenuta nel sangue. Questa acqua passa liberamente attraverso le membrane di tutte le cellule e si equilibra e viene trattenuta all'interno delle cellule o all'esterno dalle cellule da alcune sostanze che sono il sodio nel liquido extracellulare, cioè di fuori delle cellule, e il potassio invece trattiene l'acqua all'interno delle cellule. Quando ci sono delle variazioni della concentrazione di uno di questi due elementi, l'acqua per equilibrare il compartimento si sposta dall'interno all'esterno delle cellule. Allora quando noi parliamo di acqua corporea dobbiamo far riferimento a un insieme in equilibrio di compartimenti in cui l'acqua circola da uno all'altro con tutti gli effetti che si possono verificare. Bene. Dottore, a tal proposito quindi il nostro corpo andrebbe idratato. Allora c'è chi più di altri magari ci tiene a questo, nel senso che va molto spesso in giro con delle bottigliette d'acqua per idratare costantemente e quindi beve magari più di altri. È corretto oppure no? Diciamo che è un po' una forzatura. È un po' una forzatura perché noi dobbiamo considerare che l'apporto di acqua è un apporto che ci deriva da tante fonti, non solamente dall'acqua che beviamo da una bottiglietta. Ci sono delle persone che ogni quarto d'ora si bevono un sorsetto d'acqua. Allora se uno vivesse nel deserto del Sahara sotto il sole avrebbe necessità di idratarsi continuamente, ma nei nostri climi e nei nostri ambienti questo è un comportamento un po' eccessivo. Poi introduciamo acqua con i cibi, con la frutta, con la verdura, con la pasta, ma poi anche introduciamo l'acqua per il benessere nostro, per il piacere di bere. D'inverno una bevanda calda, d'estate una bevanda fredda. Quindi l'idratazione o la disidratazione è un problema che non ci tocca a meno che non abbiamo l'impossibilità fisica di accedere a una fonte d'acqua. Se noi abbiamo la disponibilità di un rubinetto d'acqua di sicuro non ci disidratiamo. Bene. Dottore, come viene mantenuto il bilancio dell'acqua? Il bilancio dell'acqua viene mantenuto in maniera semplicissima perché il Padre Eterno quando ci ha creato, ci ha creato in maniera assolutamente razionale e il bilancio dell'acqua viene mantenuto attraverso lo stimolo della sete. La sete è quel meccanismo che ci regola in maniera perfetta l'acqua. Perché? Perché noi abbiamo dei recettori, sono dei sensori che leggono o la concentrazione dei sali all'interno del nostro sangue oppure dei sensori che leggono il volume ematico circolante, il volume del sangue e quindi questi due sensori attivano o disattivano lo stimolo della sete. Per cui quando la concentrazione del sodio, del potassio, delle varie sali all'interno del sangue aumenta, beviamo, abbiamo lo stimolo della sete e andiamo a bere per compensare, per diluire questi sali. Viceversa, quando il nostro corpo perde liquidi abbiamo una riduzione della massa circolante e allora ecco che scatta lo stimolo della sete e quindi beviamo per compensare il volume di liquidi che abbiamo perso. Qui sì per sudorazioni ma anche per perdite di vario natura, perdite con le feci, perdite con le urine, perdite per emorragie, tante sono le modalità per cui si va in debito di acqua in generale. Dottore, è una frase tanto usata e a tal proposito vorremmo accettarci sulla veridicità. Allora, bene molto aiuta a depurare l'organismo dalle scorie, vero oppure no. Chi ha messo in giro questa voce è stato sanzionato ufficialmente dagli organi regolatori perché hanno ritenuto un messaggio fuorviante e non corretto. Pane al pane e acqua all'acqua. Noi dobbiamo riferire che quello che depura il nostro corpo è il rene, sono i due reni e i due reni sono la macchina depuratrice, il vero depuratore del corpo. Ma parlando di depuratori definiamo anche dei numeri. Allora, i reni filtrano mediamente ogni minuto circa 100-120 millilitri di sangue, ok? Se noi moltiplichiamo 100 per 60 minuti per 24 ore fa 1440, sono quasi 150 litri di sangue che viene depurato, filtrato nel rene. Di questi 150 litri il rene ne riassorbe il 99% per arrivare a produrre un litro di urina. Allora lei capisce che un litro di acqua che uno beve certamente non concorre alla depurazione del sangue. Assolutamente. E quindi il contributo che l'acqua che beviamo proprio non ha alcun impatto sulla depurazione del sangue. Parliamo ovviamente di un rene normofunzionante, ma anche in un rene che non funziona perfettamente l'apporto di acqua comunque non determina alcuna azione di questo genere. Bene, grazie per questo chiarimento, quindi lasciamo da parte le vicerie. A proposito di vicerie, acqua gassata fa bene fa male? L'acqua gassata non fa né male né bene, o meglio va nella direzione del piacere di chi la beve. L'acqua gassata è addizionata di CO2, non è un OGM, non è tossica, non determina nessun problema, non cambia niente del nostro corpo. Ci sono delle persone che preferiscono l'acqua naturale e delle preferone che preferiscono l'acqua gassata, ma definire l'acqua gassata dannosa è un gravissimo errore. Questa è un'altra leggenda che si è un po' tramandata, diciamo così, no? Però facciamo giustizia, l'acqua gassata è un'acqua che ha la stessa proprietà dell'acqua naturale. Bene. Abbiamo un tipo di acqua migliore di un'altra? Altra leggenda da sfatare. Oggi. Il nefrologo deve fare la guerra a questo punto. Esatto. Altra leggenda da sfatare. Allora, se consultiamo internet ci sono un sacco di siti ufficiali che riportano le tabelle con il contenuto dell'acqua di tutte le sostanze, gli ioni, il residuo fisso, eccetera. Allora, se uno ha la pazienza di andare a cercare e leggere i numeri, si accorgerà che nella grande maggioranza dei casi i numeri sono molto simili, variano in un range veramente insignificante. Allora è difficile pensare o sostenere che un litro di acqua migliora il mio bilancio corporeo, previene la mia osteoporosi. Perché? Perché la quantità di sali, chiamiamoli genericamente sali, che viene introdotta con un litro di acqua è veramente una quantità minima, non solo. Ma poi torniamo al nostro amico Rene, perché è il Rene che poi regola il bilancio globale. E il Rene, in relazione alle necessità, trattiene o butta fuori sodio in più, potassio in più, fosfato in più e tutte queste sostanze. Allora, il discorso di questo genere è che non è sufficiente, o meglio è eccessivo dire che un litro di acqua mi cambia il destino delle mie patologie. Definiamo quello che può essere il benessere o il piacere di bere un tipo di acqua o un altro, perché per carità ci sono delle minime differenze che conferiscono anche un minimo sapore, una minima piacevolezza. Però questo è un consumo personale sulla base di un gusto personale. Ma mi basta bere un bicchiere di latte per introdurre tutto il calcio che mi serve con due litri di acqua. Allora, decidiamo di cosa vogliamo parlare e in che termini vogliamo parlare. Assolutamente. Dottore, meglio un bicchiere d'acqua minerale o da robinetto? Allora, anche qui, altro elemento importante. L'acqua è sempre l'acqua. E anche qui, se consultiamo il sito delle aziende municipalizzate delle varie città, troviamo tutte le informazioni sul contenuto di sali delle acque. Poi, certamente ci sono delle reti di distribuzione dell'acqua che non sono ottime. E allora ci possono essere delle reti che possono avere degli inquinanti, ma questo è un altro paio di maniche. Mentre l'acqua da qualunque fonte proviene è buona. D'altra parte, chi va in montagna non prende l'acqua minerale, ma prende l'acqua del rubinetto e dice, oh, senti che buona, che fresca che è. Allora, l'acqua della montagna viene dall'acquedotto, anche quella, non nasce dalla fonte a 3.000 metri. Quindi, chiariamo bene questo concetto. Poi, certamente, ci sono delle reti di distribuzione che sono vecchie, che distribuiscono ferro, che distribuiscono calcare, ma è un problema di rete, non di acqua.